Musica Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in apertura alla politica insulti sessisti nei confronti della consigliera Melini l'appello rivolto ai consiglieri votanti è quello di rinunciare alla segretezza del voto intanto una richiesta arriva anche dalla Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Dirella Un appello a tutti i votanti di quella sciagurata votazione a scrutinio segreto del 14 novembre ultimo scorso l'appello è a condividere la mia spontanea disponibilità a fornire alla consigliera Melini e al suo avvocato senza che vi sia intervento della magistratura o prima dell'intervento della magistratura perché in questo caso la politica deve fare prima e può fare prima la propria disponibilità a sottoporsi a perizia calligrafica Questo l'appello del Presidente del Consiglio Comunale di Bari Pasquale Dirella rivolto a tutti i presenti al momento della votazione due giorni fa durante il Consiglio Comunale in cui sono stati rivolti insulti sessisti alla consigliera di opposizione Irma Melini e la stessa Melini proprio oggi si lancia in un enesimo appello rivolto ai colleghi rinunciati alla segretezza del voto chiede di acquisire la formale rinuncia all'unanimità dei 23 votanti così facendo scrive si potrà in tempi brevi procedere alla verifica della paternità di ciascuna preferenza espressa e quindi all'accertamento delle responsabilità inerenti al fatto di vilipendio all'istituzione del Consiglio Comunale e di diffamazione aggravata a mio danno Intanto l'appello del Presidente Dirella va oltre A colui che o a colei che ha scritto quella irripetibile parolaccia faccia un esame di coscienza si penta e si scusi con la consigliera Melini con il Consiglio Comunale e con la città non attenda che ci sia una indagine penale e che nel frattempo tutto il Consiglio Comunale tutta la città sia infangata da quest'onta si faccia avanti, sia responsabile, si scusi L'Ordine dei Medici chiede un incontro con Emiliano dopo l'ennesimo episodio di violenza e danni di una dottoressa il prossimo 21 novembre i camici bianchi chiederanno al Governatore Pugliese misure immediate che riducano i rischi c'è stata una minaccia a mano armata nei confronti di una dottoressa l'altro ieri a Foggia ieri è arrivata l'ennesima notizia di violenza di un'altra dottoressa che hanno condotto un arresto di un 51 anni di acqua viva si legge in una nota dell'Ordine dei Medici questi episodi comprovano quanto dicono da tempo i dati la Puglia è in cima alle classifiche per aggressioni degli operatori sanitari esprimo a nome dell'Ordine dei Medici la mia solidarietà alla collega vittima di violenza sottolinea Filippo Anelli, presidente dell'OMCEO Bari a lei, come a tutti gli altri operatori sanitari che quotidianamente sono esposti a rischio urge dare risposte immediate mai più medici da soli in guardia e passiamo alla cronaca ha coltellato più volte sua moglie durante una lite ferendo con lo stesso coltello da cucina anche sua figlia una bimba di meno di 10 anni che ha cercato di frapporsi tra i genitori in difesa della mamma l'uomo, un disoccupato di 43 anni è stato arrestato dalla polizia ed è accusato di tentativo di omicidio nei confronti della moglie maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno di minore aggravati dalla genitorialità è successo a Monopoli è stata la donna che a 34 anni ha dichiarato di essere da tempo vittima di maltrattamenti a chiedere un aiuto è riuscita a scappare dall'appartamento e a fermare per strada un'automobilista che ha chiamato la polizia la donna ha reportato lesioni varie e ferite di arma da taglio non le taglia la schiena e al torace oltre ad un trauma cranico e la frattura al setto nasale è ricoverata in ospedale con riserva di prognosi la piccola invece è ricoverata in pediatria con un ematoma alla tempia una ferita d'arma da taglio alla mano e varie contusioni Cambiamo argomento Bari e la pioggia vediamo la situazione del capoluogo pugliese dopo il maltempo di questa mattina Ci risiamo qualche ora di maltempo il capoluogo pugliese si trasforma soprattutto nelle sue zone più critiche Viare David si conferma tra le strade più colpite dalle piogge pista ciclabile allagata a causa del mancato deflusso dell'acqua piovana situazione tuttavia migliorata grazie al posizionamento di nuovi pozzetti e delle nuove caditoie richieste dal comune di Bari soprattutto in corrispondenza della rotatoria di San Marcello gli esercizi commerciali sono salvi permangono tuttavia i problemi per i pedoni stesso discorso per il lungomare Starita altezza Fiera del Levante i marciapiedi scompaiono nell'acqua per lasciare spazio e immense pozzanghere potenzialmente pericolose anche per le auto pochi problemi questa volta nei sottopassi cittadini menzione a parte quello su via Cifarelli con il cantiere completamente allagato un'azienda speciale è il vero futuro dell'acquedotto pugliese il Movimento 5 Stelle suggerisce alla Regione l'unica possibilità esistente a soddisfare le richieste piuttosto urgenti dei cittadini e dei sindaci mentre dicono Emiliano continua un imbarazzente silenzio Barbara Cilillo futuro dell'acquedotto pugliese è difesa dell'acqua pubblica un'emergenza più che un problema da risolvere per i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che oggi hanno presentato insieme ad alcuni sindaci della Puglia una proposta alternativa alla chiacchierata società per azioni la trasformazione di acquedotto pugliese in un'azienda speciale e quindi avrebbe le condizioni affinché l'AIP possa affidarle il servizio idrico integrato a questa azienda speciale però devono aderire i comuni tramite convenzione stando all'articolo 30 del TUEL in maniera tale che ci sia anche il requisito del controllo analogo una soluzione che, secondo i pentastellati porterebbe non poche agevolazioni per la Regione e per i suoi cittadini tariffe più basse automaticamente perché consegue l'obiettivo del pareggio di bilancio non dell'utile e quindi questo si ripercuote direttamente sulla tariffa significa una gestione più trasparente e un servizio quindi migliore il Comune di Noce ha già approvato la delibere in sede di Consiglio Comunale ora la palla passa ai colleghi nei prossimi giorni il Movimento 5 Stelle Puglia scriverà una lettera a tutti i sindaci dei comuni pugliesi per invitarli ad approvare questa mozione un 61enne barese è stato sorpreso nel pomeriggio di ieri mentre rubava gli spiccioli delle offerte lasciate da fedeli e pellegrini all'interno dell'area presbiteriale della cripta di San Nicola l'uomo da 5 anni addetto ai servizi incensurato dopo aver aperto con le chiavi il cancello avrebbero introdotto nelle cassette delle offerte un cavo d'acciaio modificato con una calamita per raccogliere quante più monete possibili ma tra i pochi fedeli che ieri c'erano in Basilica c'era un carabiniere che ha subito fermato l'azione dell'uomo e ha chiamato il 112 per il 61enne è scattato l'arresto e la detenzione domiciliare porte aperte della Capiteneria di Porto per il Fiaba Dei la giornata dedicata all'abbattimento delle barriere architettoniche città a misura di persona che sia disabile o normodotata giovane o anziana è la battaglia da sempre portata avanti dall'associazione Fiaba Onlus che per il quindicesimo anno consecutivo ha organizzato una giornata dedicata all'abbattimento delle barriere architettoniche da 15 anni oltre a palazzi, musei e parchi si scelgono anche i porti italiani tra cui quello di Bari questa mattina qualche ora di svago per le diverse associazioni presenti nella sala operativa della Capitaneria siamo tutti sulla stessa barca ma siamo tutti sulla stessa barca sia per dal mare a terra da terra al mare ma che nel vivere le nostre città i nostri parchi i nostri laghi le nostre montagne noi oggi abbiamo necessità proprio di dare l'opportunità da quando nasce una nuova vita sappiamo che una donna che per nove mesi è in gestazione ogni mese scopre difficoltà diverse si pensa davvero a tutti la mia carrozzina si vede ha dichiarato ancora il presidente di Fiaba le altre disabilità di qualsiasi genere no un messaggio forte e chiaro a cui si unisce la direzione marittima pugliese perché ha dichiarato il comandante in seconda De Carolis il nostro lavoro non conosce nessun tipo di barriera quindi questo è anche un momento significativo il TEDx mette in disordine il teatro Petruzzelli la conferenza internazionale sulle idee da diffondere torna a Bari per il terzo anno consecutivo domenica 19 novembre alle 17 tra gli speaker che saliranno sul parco il giornalista Raffaele Alberto Ventura il digital artist inglese Andy Lomas il visual artist francese Alexandre Bavard e la giovanissima chef leccese di fama internazionale Isabella Potti presente anche il gruppo musicale innovativo Niagara la conferenza spettacolo organizzata dall'associazione culturale Cubo è preceduta da due eventi il bazar elettrico alla sala Miurà aperto fino a stasera il festival di musica elettronica previsto per domani all'Anche Cinema Royal Diario di viaggio itinerando nei luoghi della sostenibilità è il titolo del nuovo libro del giornalista Pierluigi De Santis un vero e proprio viaggio quello di Pierluigi De Santis un viaggio nei luoghi della sostenibilità si è un viaggio su e giù per il tacco d'Italia che è la Puglia e in particolare si sofferma anche su Bari a Bari in particolare c'è un tesoro che è Bari Vecchia insomma un gioiellino della città vecchia e all'interno del quale c'è tutto un percorso delle edicole votive ne sono oltre 260 alle quali poi sono state dedicate due poesie all'interno il viaggio infatti è un viaggio tra descrizioni e suggestioni e questa sera alle 21.05 subito dopo il nostro telegiornale non perdete l'appuntamento con la sesta puntata di Rimba News notizie in tempo surreale il gruppo comico pugliese in scena al Teatro Forma commenterà in 20 minuti i fatti più curiosi della settimana con tanto di pubblico sul palco lo spettacolo che andrà in scena fino al 30 novembre sarà anche in diretta su Telebari e sulla pagina Facebook della Rimba Band per partecipare allo spettacolo in teatro il pubblico può prenotarsi gratuitamente tramite i social e questa era la nostra ultima notizia adesso vi lascio le previsioni del tempo grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo ancora ombrelli a portata di mano nel corso di questo venerdì sul medio adriatico e dal sud sempre alle prese con questa circolazione di bassa pressione che per notate si sta gradualmente allontanando verso la Grecia prevalenza di bel tempo al nord e le regioni tirreniche ma vediamo tutti i dettagli partendo come sempre dalla nuvolosità con un cielo in gran parte sereno su gran parte delle regioni centrosittentrionali salvo innocue velature in transito nel corso della giornata nubi più consistenti ancora sul medio adriatico e al sud ancora alle prese con qualche acquazzone vediamo quindi tutti i dettagli relativi al nostro stivale con un cielo quindi sereno poco nuvoloso in particolar modo al nord ovest e le regioni tirreniche mentre della nuvolosità residua interesserà le Marche e la Romagna ma senza piogge piogge che invece interesseranno ancora una volta le regioni meridionali a tratti ancora temporaleschi tra Calabria e Sicilia le temperature saranno in leve rialzo al centro nord valori stabili invece al sud con questo è tutto per aggiornamenti in tempo reale le prime anticipazioni sul weekend seguiteci su trebimeteo.com grazie a tutti